In un tredicesimo turno inaugurato dal big match tra Manfredoni e Canosa, il girone A di eccellenza pugliese si prepara a vivere il giro di boa del campionato con i fari puntati su altre due protagoniste, Bisceglie e Coratu. Il team di Franco 5 ha un obiettivo, non mollare quella vetta riagganciata nello scorso fine settimana grazie alla vittoria nel derby contro l'Unione Calcio. Domenica alle 16.30 il calendario opporrà a diritto e compagni al Ventura al Mola, formazione rinforzata nelle ultime ore dagli arrivi di Cristian Tiboni, attaccante 34enne con un passato in A e B con Atalanta, Verona, Udinese, Monza, Regine, Ascoli e del centrocampista 23enne Giuseppe Di Lascio. Obiettivo tornare a blindare una porta colpita due volte nel derby dopo aver incassato un solo gol nelle prime 11 giornate. Riparte dal fattore campo il Corato che domenica scorsa contro il Polimnia ha interrotto una serie positiva di 10 turni. Sfida al San Severo per la squadra di Fabio Di Domenico, terza a 24 punti, fischio d'inizio alle 14.30 così come per San Marco Foggia in Cedite, team Mortanova Unione Calcio Bisceglie. A inaugurare la domenica di calcio alle 11 saranno invece Borgo Rosso, Molfetta, Polimnia e Vigortrani Real City. Anche nel gruppo B non c'è ancora un campione d'inverno designato. Determinante sarà l'ultima giornata del girone di andata. Il città di Gallipoli capolista ospiterà l'Arborisbelli mentre Lugento che insegue a tre punti di distanza sarà impegnato in casa contro un nuovo literzultimo. Osservano a distanza di 5 lunghezze l'Otranto che sfida un Castellaneta sempre più ultimo e a meno 7 il Manduria rinforzato dall'ex barletta Pignataro e di scene in casa contro il Gallipoli Calcio. In programma anche a vetrana Ginosa, Ostuni Maglie e Virtus Matino Massafra tutti in campo alle 14.30. Grazie a tutti.